la connessione Ciao sono Silvia, lavoro nel negozio di Marras in piazza Civica 9 dove delle nostre clienti di Ittiri hanno allestito il presepe per il terzo anno consecutivo. È un presepe che loro prima facevano nella loro abitazione, dedicavano una stanza solo per questo presepe e negli ultimi tre anni invece hanno dedicato uno spazio con loro presepe nel nostro giardino con l'olivo naturale, le loro statue grandi con un angolo poi dedicato alle statue con i costumi sardi e ci mettono un sacco di tempo a sistemare il tutto, normalmente impiegano quei due giorni, due giorni e mezzo ad allestire tutto il presepe e il risultato è quello che potete vedere. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.